Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sul costo del lavoro, però prego Professor Tremonti. Ma io ho trovato, non condivido i contenuti, le valutazioni, ma ho trovato giusto quanto è stato detto prima dall'onorevole Furfaro, che ha visto la questione in termini... E' inutile che ridassero, sono convinto che hai detto le cose giuste. No, ma perché ha sbagliato il mio cognome, mi chiamo Furfaro Tremonti, per questo ridevo, non ridevo per il merito. Ho sbagliato l'accento, quindi mi è scappato la sorridere e tutto qua. Prego. No, ti chiedo scusa. Ma voglio dire, io davvero non ho la tua posizione, l'ho un po' diversa, però credo che sia giusto il modo di vedere quello che succede, che succede in Italia, che succede nel resto del mondo, certo in Occidente, in termini storici e generali. E' la fine della globalizzazione o la crisi della globalizzazione. E' cominciata con la caduta del muro, è stata sviluppata con l'impegno di tanti, certamente anche un fortissimo impegno della sinistra, nel mondo, la terza via, ricordate, e adesso è la crisi. Ed è una crisi che vedi da tanti punti. vediamo gli effetti, la pandemia, vediamo l'inflazione, vediamo la guerra, vediamo certamente la caduta di alcuni valori e principi, i cibi sintetici, il pensiero sintetico dell'intelligenza artificiale, è una fase storica drammatica. E il punto da vedere è che non è solo in Italia, se uno gira l'Europa vede che in vario modo i problemi ci sono in Francia, in Germania, in tanti altri paesi. E questo secondo me è il piano su cui confrontarsi nelle visioni che possono e devono essere diverse. E non è che la destra ha una politica e la sinistra ne ha un'altra. Io non mi occupo più di economia, però se posso dire, la prima cosa che ho fatto fu ai tempi detassare chi investiva e chi assumeva. E questo puoi dire che è di destra, di sinistra, non lo so. So che per la prima volta la leva fiscale era usata non per prendere, ma per spingere. Ma le piace il decreto Menoni? Sì, altro. Diciamo quest'ultimo. Ma credo che sia... Dati i tempi e dati i soldi è sicuramente una via giusta, ma torno a dire, guardiamola più in generale fuori dalle polemiche. Io non ho interesse a fare polemiche. E non è che la destra è cattiva e la sinistra è buona. Noi abbiamo fatto il 5 per mille, che era per il volontariato e la ricerca. La prima riforma fiscale fatta nel 2001-2002 toglieva dall'imposizione la parte più bassa dei redditi. Era la no tax area. Abbiamo tassato gli extra profitti ai tempi della crisi che arrivava nel 2008. Quindi non credo che sia giusto dire che la destra dice male e la sinistra dice bene. Abbiamo avuto tanti errori anche a sinistra e, come dire, quello che c'è adesso, comunque torno a dire, possiamo litigare finché vogliamo, ma quello che c'è adesso, e finisco, è realmente l'effetto della crisi della globalizzazione e certamente anche il risultato di enormi errori fatti dalle banche centrali in Europa negli ultimi dieci anni. L'inflazione, per esempio, è uno di questi aspetti. Apriamo su questo subito una discussione con Furforo e Cuzzocrea. Bisogna anche ricordare che altri governi agiscono in senso diverso. Per esempio il governo spagnolo sta... ...